Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo di questo trailer che i Racer Studio hanno lanciato cioè Automobilista 2 che esce a dicembre 2019 ragazzi c'è altra carne al fuoco altri titoli per noi amanti della simulazione quindi cosa vogliamo di più allora prima analisi sfrutteranno il motore grafico di Project Cars 2 il lifetrack di Project Cars 2 per il meteodinamico ciclo giorno e notte qualità grafica alla Project Cars 2 ragazzi e se usano la fisica che hanno già di automobilista e il fatto che riescano a sfruttare il massimo degli alz possibili dei volanti si annuncia così senza nessun tipo di analisi o altro un gran titolo o potenzialmente un titolo che comunque potrà tenere testa a quelli che insomma conosciamo tutti Air Factor 2 iRacing eccetera quindi ragazzi poi con questo motore grafico che sicuramente potrebbe sfruttare anche la realtà virtuale ci aspetta qualcosa di fantastico l'unica becca che bisogna aspettare dicembre 2019 nella speranza che i Racer non abbiano tempi biblici e che riescano a mantenere comunque le date che fissano e che non sia la solita open beta pre alfa eccetera eccetera ma che ci sia un prodotto finito sono speranzoso perché perché insomma hanno fatto comunque del bel lavoro l'unica cosa che gli mancava come ho sempre detto la qualità grafica ragazzi c'è poco da fare la qualità grafica quindi aspettiamo dicembre 2019 fine anno per andare speriamo a scoprire un gran titolo quindi questo mi fa sempre piacere quando c'è l'annuncio e questi teaser e questi insomma trailer che ci fanno ben sperare nella speranza di ritrovare un titolo insomma che sia all'altezza sembra quasi un connubio tra R Factor 2 e Project R2 quindi come dice Vincenzo Nixos 1 dei 3 che penso conosciate bene se la slide di Mati Studio avesse sfruttato meglio diciamo questo motore grafico e la loro fisica avrebbe sotterrato tutti i simulatori da un lato io ero diciamo abbastanza d'accordo purtroppo non mi sono trovato con la fisica e penso tutti ormai avete capito e sapete cosa penso di Project R2 chissà che i Razer con Automobilista 2 riesca a fare meglio quindi voglio ringraziare Giuseppe Cionti che ha segnalato nel gruppo Whatsapp questo teaser questo trailer dei Razer perché comunque mi dà la possibilità di fare questo video e di poter condividerlo insieme a voi quindi ditemi nei commenti cosa ne pensate cosa pensate di questo motore grafico che sfrutteranno appunto quello di Project R2 adesso mi ricordo si chiama Mindless Engine più Lifetrack con quindi meteodinamico ciclo giorno e notte eccetera e per concludere nella speranza che non utilizzino sempre contenuti brasiliani che non mi piacciono però che possono estendere diciamo a livello mondiale quelli che sono i contenuti che piacciono un po' a tutti Formula 1 GT eccetera eccetera insomma lo sappiamo benissimo cosa ci piace quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto pollice in su come al solito lasciate un commento che fa sempre piacere non esitate ad iscrivervi al canale ad attivare la campanella qui sotto anzi per essere notificati ogni qualche volta pubblico un video noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto ciao ciao